sarpedonte a quanto pare è già informato dei fatti et scio eum cesari pepercisse e io so et scio che lui eum ha risparmiato cesare cesari pepercisse non neita est non è forse così certe certamente interviene sosia at non ex templo ma non subito primum negavit se parsurum esse juveni all'inizio primum negavit disse che non avrebbe risparmiato il giovane se parsurum esse juveni poi deinde tandem alla fine pepercit lo ha risparmiato ha avuto pietà sub ridens sorridendo con un sorriso a diecit autem ma ha precisato ineo multos mario sesse che in lui ci sono molti mari ma c'è un'altra novità benché cesare sia pericoloso perché in lui vi sono molti mari silla ha deciso di nominarlo tribuno nell'assedio dell'esercito romano alla città greca di mitilene cesar mi dixit se letissimo messe cesare commenta sosia mi ha detto mi dixit se letissimo messe che è molto contento che è felicissimo ma rufa precisa ita est è proprio così et sosia come sei us erit e sosia lo accompagnerà sarà suo compagno sarpedonte intuisce che rufa non è affatto contenta puto te letam non esse credo che tu non sia contenta rufa immo video te ira incendi anzi vedo video te ira incendi che tu sei infiammata dall'ira che sei molto arrabbiata at rufa ma rufa interviene sosia bene sciss sai bene oc modo me meriturum esse pecunia che in questo modo mi guadagnerò i soldi me meriturum esse pecuniam necessari necessariam ad nostram manumissionem alla nostra per la nostra manumissione per la nostra liberazione è tutto ciò che c'è Grazie a tutti.